grandi protagoniste di questo nostro campionato di Serie A. Non l'abbiamo ancora detto che è il campionato più bello del mondo? Esatto, è il campionato più bello del mondo, sono d'accordo. Ah, che peccato! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Sì, sì, assolutamente, quindi si stanno preparando per Parigi e è importante per loro arrivare pronte a luglio. Quindi in questa fase sembra...